Buonasera, in primo piano l'emergenza sanitaria. Ci sono nuove quattro vittime in Basilicata del Covid. A Potenza intanto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza ha definito il piano per i servizi di scorta e vigilanza delle dosi di vaccino moderna giunte a pratica di mare. Francesco Albanese. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, fino ad ora la Basilicata ha somministrato 4.697 dosi di vaccino su 11.805 disponibili per una percentuale pari quasi al 40% rispetto ad una media nazionale del 73,6%. Nel pomeriggio si è tenuta una riunione in prefettura a Potenza del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, anche per definire le modalità di distribuzione delle dosi del vaccino moderna giunte ora a pratica di mare. Per quanto riguarda i vaccini moderna, il cui programma di distribuzione ancora non ci è pervenuto, si occuperà l'arma dei carabinieri, della scorta dei mezzi, dei corrieri che porterà a destinazione ai vari centri di stoccaggio i vaccini stessi. Per quanto riguarda i vaccini di Pfizer, provvederanno alla scorta la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza. La giornata intanto ha fatto registrare altre quattro vittime per coronavirus, tre i morti comunicati dalla Task Force regionale. Al San Carlo sono deceduti un 79enne originario di Satreano ed una 82enne di Moliterno, mentre all'ex Donuva si è spento un 79enne di Lavello. La notizia di un quarto decesso l'ha riferita invece il sindaco Setaro di Muro Lucano. Si tratta di un ospite 94enne della casa di riposo San Gerardo. Sale a 6.500 il numero dei lucani attualmente positivi al coronavirus, 156 nuovi contagiati, a fronte di 89 guarigioni accertate dai 1.222 tamponi processati. Tra i casi di giornata si segnalano in particolare le 24 positività presso la casa di riposo di Potenza Sorridere al Tempo e la nuova impennata di positivi a Grumento Nova, dove ora i casi sono 36. Capitolo ricoverati. Tra Potenza e Matera ce ne sono 98, con quattro posti di terapia intensiva occupati. Grazie. Grazie.